Ha chiesto al Comune di rimuovere i murales realizzati in questi giorni dedicati ai baby rapinatori uccisi ed ha formulato un appello ai genitori per insistere nella scuola al riparo da guadagni facili. Il prefetto di Napoli Marco Valentini dalle colonne del quotidiano il mattino ha preso posizione su questo tema molto delicato. Il riferimento è ai murales dei baby rapinatori uccisi dalle forze dell'ordine celebrati sui muri dei quartieri più popolari. Al prefetto ha replicato il sindaco di Napoli. Il prefetto sa che c'è un tavolo aperto tra prefettura e comune ha detto De Magistris, è una vicenda che si sta affrontando secondo legalità e non attraverso interviste. C'è un canale amministrativo che il prefetto conosce che porterà una serie di risultati che vanno nell'interesse della legalità, della giustizia e senza creare ulteriori condizioni di tensioni sociali. Una replica piccata, quella del primo cittadino, espressa dai microfoni di radio CRC riferimento ai due murales distinti, comparse ai quartieri spagnoli e ai tribunali per omaggiare due giovani che sono rimasti uccisi nei mesi scorsi nel tentativo di effettuare due rapine. La realizzazione dei murales sta immediatamente destato scalpore in città e aperto il dibattito. Il sindaco ha sottolineato che è una vicenda che stanno seguendo personalmente gli assessori Alessandra Clemente e Luigi Felaco. È una materia che sarà affrontata con la giusta risolutezza e senso di giustizia, che contraddistingono la nostra città e che non va dietro a prove muscolari. A concluso De Magistris si attende la controreplica del prefetto Valentini. Grazie a tutti.